e dopo infatti mi intervisterà proprio il figlio Antonio un duro pronosticatore attenzione anche al numero 4 Rodrigo Ezbi sta correndo sempre con profitto a più tardi Mezzo Meccanico in movimento per questa sesta ancora una buona moneta ma questa volta per 4 anni sul doppio chilometro 8 in prima, 1 in seconda quindi sono in 9 proprio il numero 9 il più gettonato Raoul Breed, Mario Minopoli 1 in Sarchi, 1 Yankee Slide quindi velocità il Mezzo Meccanico Cellotta serrata con Rosemary Bebi alle prese con Rodriguez B all'argo di tutti Renoir Gar 3 cavalli per il comando insiste Rodriguez se l'inserimento di Raoul Breed molto sollecito si va dopo 200 sfonda il B di Marcellino Panevino 14 e 4 il 5 a tabellone e vengono via i due insieme a chiedere strada si va dopo 400 passati in 28 e 8 signori e la lotta si protrae con Renoir Gar che sfonda rimane in asino al vento Raoul Breed ora vediamo l'intenzione del Francesino dovrebbe puntare in avanti 43 e 3 i 600 si muove anche la Roberta targata Zack completamente la seconda curva si va un mezzo miglio molto effervescente passato in 59 e 2 Raoul Breed dal largo di Renoir Gar sta passando il targato Breed in leggero vantaggio si va alla chiusura del primo chilometro passato nell'ordine dell'uno 13 e 4 sul mio cronometro il chilometro è sempre bollente questo pomeriggio il mio penultima curva con Raoul Breed avvicinato dalla Roberta mezzo miglio la conclusione e Roberta pariglia Raoul Breed e si trascina a rullo del nord sta già passando a palo lontano la Roberta pochi argomenti per Raoul Breed allunga e si distende la Roberta 14 e mezzo di fronte si migliora a Forino con il suo targato nord cavalli che affrontano la curva finale Roberta rullo si va alla chiusura del miglio nell'ordine dell'uno 57 e 8 Roberta rullo poi Renoir Gare gli altri in apnea completamente la curva finale retta d'arrivo con Rullo che si affaccia e tenta l'aggancio viene via il rullo cerca l'aggancio viene via come un rullo il rullo impegna Roberta lotta serrata la lotta è incerta i cavalli sono in zona a traguardo e sul traguardo la Roberta zack 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 porta a casa la vittoria signori 1-13-7 chapeau al Caterpillar doppio nel pomeriggio con questa zack 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 che si chiama Roberta rullo corre alla grande ma ha trovato una Roberta ancora una volta in edizione straordinaria 6-1 facciamo scorrere le immagini e per il terzo posto dopo un po' molto tempo vedete che giunge il numero 4 di Rodriguez linea alla regia signor 1-12-3 2-11 minuto 20-16 minuto 22-17